Ancora proteste e forti momenti di tensione al carcere di Santa Maria Capoavetere, dove i detenuti hanno danneggiato oggetti e arredi prima di barricarsi per circa tre ore. Solo l'arrivo del magistrato di sorveglianza e una lunga trattativa hanno fatto rientrare la situazione. Secondo quanto riferito dal sindacato autonomo di polizia penitenziaria all'origine delle violenze, ci sarebbe la mancata concessione ad un detenuto del permesso per partecipare al funerale di un familiare, ucciso dai clan rivali la notte di San Silvestro. Presumibilmente si tratterebbe del 26enne colpito con un proiettile alla testa nel rione popolare ex IACP per motivi legati allo spaccio. Ricevuta la richiesta, il magistrato avrebbe chiesto tempo per valutarla, risposta che però non ha soddisfatto il detenuto. A questo punto l'inizio delle proteste, che si sono allargate coinvolgendo una quindicina di reclusi al terzo piano del reparto Volturno. Alla fine il permesso al detenuto è stato negato e lui e gli altri protagonisti della rivolta saranno trasferiti. Questo è il commento di Ciro Auricchio, segretario regionale dell'USP. E' da tempo che chiediamo un incremento d'organico che si caccia di Santa Maria Capoeira. Mancano 70 agenti dalla pianta organica, nonché ci sono problemi di soffolamento e problemi strutturali. Chiediamo inoltre l'intervento del GOM e del Gruppo Operativo Mobile per supporto ai colleghi di Santa Maria. Solidarietà per i fatti accaduti. Ancora una volta quindi la casa circondariale nel Casertano finisce al centro dell'attenzione pubblica dopo le presunte torture inflitte a detenuti dai secondini. Episodi per i quali la procura ha chiesto il rinvio a giudizio di 107 persone.